Ciao artigiano! Quando si assemblano tra di loro diversi componenti in legno o derivati mediante l'uso di viti generalmente si utilizzano viti a tutto filetto oppure a filetto parziale. In questo video voglio dimostrarti tramite qualche esempio pratico perché è bene scegliere in questi casi la vite parzialmente filettata. Qui sul banco ho due viti, quella di sinistra è completamente filettata si dice anche tutto filetto mentre quella sulla destra è parzialmente filettata. Queste due tipologie di viti fanno esattamente lo stesso lavoro una volta che i due componenti sono stati uniti. La differenza sta nel momento stesso in cui si stanno assemblando i componenti. La prima dimostrazione la farò unendo questi due pannelli multistrato betulla da 18 mm con viti a tutto filetto senza fare alcun preforo. Ti spiego che cosa è successo. Il fatto che la vite sia tutto filetto questo filetto fa presa su tutti e due pannelli ovvero quello di faccia e quello di costa. Questo nonostante la vite sia arrivata a fine corsa. Questo problema lo posso risolvere risvitando la vite completamente tenendo uniti i due pezzi con dei morsetti e dopodiché rifacendo entrare la vite sino a fine corsa. Ora farò lo stesso esempio utilizzando la vite a filettatura parziale. Anche in questo caso non ho fatto alcun preforo semplicemente andrò ad avvitare la vite a filettatura parziale nel pannello così com'è. La differenza la si può apprezzare subito. La vite parzialmente filettata ha subito messo in trazione nonostante non ci sia alcun preforo ha messo in trazione il pannello di faccia quindi chiamiamolo pannello A sul pannello B il pannello messo di costa. La filettatura in questo caso sta lavorando esclusivamente sul pannello di costa mentre sul pannello di faccia quello che lavora quello che mette in trazione i due pannelli tra di loro è esclusivamente la testa della vite. Nell'altro esempio durante l'avvitatura stessa della vite a tutto filetto i due pezzi venivano separati appunto perché la filettatura andava a lavorare su entrambi i due componenti che si stavano assemblando. Utilizzando sempre le stesse due viti quindi la tutto filetto e la parzialmente filettata farò un altro esempio questa volta praticherò il preforo sempre nell'unione di questi due pannelli. In uno dei due prefori adesso andrò ad avvitare una vite tutto filetto. Nonostante il preforo e che la vite sia arrivata a fine corsa comunque rimane un po' di aria tra i due componenti. Per ovviare a questo inconveniente dovrei prendere l'avvitatore e svitare leggermente la vite a tutto filetto quindi ritornare un po' indietro con la vite e riprendere ad avvitare di nuovo sino a fine corsa. Facendo così allora riesco a eliminare l'aria tra le due parti. Fatto questo utilizzerò la vite parzialmente filettata sul preforo. Come ti ho appena dimostrato l'utilizzo della vite parzialmente filettata permette di accoppiare le due parti in maniera più precisa inoltre far risparmiare tempo all'operatore. Lo stesso esempio lo posso fare su componenti di spessore maggiore in questo caso ho pannelli da 30 mm pannelli in listellare non si tratta più di multistrato. Ho eseguito i prefori esclusivamente su uno dei due componenti e non su entrambi. Utilizzo una vite sempre parzialmente filettata ma di lunghezza superiore in questo caso sono viti 5x70. Nonostante stia cambiando misura di vite parzialmente filettata comunque sia l'impronta sulla testa della vite è sempre la stessa. Questo mi permette di utilizzare sempre lo stesso inserto. L'accoppiamento delle due parti è stato rapido e preciso i bordi sono entrati subito in perfetta aderenza già dalla prima vite. E questi sono i vantaggi dell'utilizzare viti parzialmente filettate per questo genere di lavori. Con questa dimostrazione il video termina qui. Ciao artigiano!